Ci sono volte in cui una donna cercherà di risucchiarti dentro la relazione il più velocemente possibile. Fin dal primo giorno è intensa e passionale, alla fine della settimana ti sta già dicendo quanto ti ama. Quando questo accade si è spesso tentati di ricambiare i sentimenti allo stesso modo. In fondo perché no, le piaci e ovviamente adora stare con te. Ma è proprio in questi momenti che devi consapevolmente trattenerti e resistere a quella grande attrazione che lei sta esercitando su di te. Se dici a una donna che sei innamorato di lei troppo presto, rischi solo di abbassare il tuo valore e di far deragliare il processo di seduzione. La donna, dopo aver iniziato con tale intensità, alla fine si renderà conto che il rapporto si sta muovendo troppo velocemente e che in realtà non ti ama come pensava. Credimi, questa cosa è inevitabile. La verità è che lei era soltanto innamorata dell'idea di essere innamorata. E anche se è stata lei in primo luogo a inseguirti e ricercarti, la colpa per aver affrettato la seduzione sarà solamente tua. Se permetti di essere tirato dentro la relazione troppo presto, non sorprenderti quindi se quest'ultima si disintegra e cade a pezzi con la stessa velocità con cui è preso forma. Allo stesso modo, quando una donna dice di voler andare a vedere, per esempio, un'opera teatrale o fare shopping, gran parte degli uomini coglie al volo l'occasione per farle compagnia. Ma la maggior parte di loro non importa se queste attività potranno essere piacevoli oppure no. Ciò che conta è l'opportunità. Più precisamente, l'opportunità di stare con la donna e la possibilità di fare sesso con lei. Le donne però sanno bene che il più delle volte gli uomini non hanno alcun interesse nello shopping o di passare una serata al teatro. E sanno anche che il momento in cui sei disposta a diventare accomodante in cambio del sesso è il momento in cui inizia ad apparire vulnerabile e debole ai loro occhi. Quando permetti a una donna di metterti in situazioni che minano il tuo comfort e il tuo controllo o quando la raggiunge ovunque si trovi, inavvertitamente uccidi la trazione. Questo perché le stai facendo capire che sei disposta a sacrificare il tuo tempo e la tua felicità solo per fare un piccolo assaggio della sua presenza. Tutto quello che devi fare in questi casi è ascoltare l'istinto. Nel momento in cui una donna propone di fare qualcosa che a te risulta inconveniente e comunque non ti fa sentire a tuo agio, rifiuta. Non devi mai aver paura di renderti poco disponibile perché l'uomo attraente comprende una regola fondamentale, che la trazione cresce nello spazio. Una donna cercherà sempre di metterti alla prova per vedere se può avere potere su di te. Potrebbe farlo annullando i vostri appuntamenti, costringendoti a fare salti mortali pur di vederla, oppure cercando di farti abbandonare qualsiasi cosa tu stia facendo senza nessuna ragione in particolare. Ma come l'uomo debole è disposto a piegarsi alla volontà della donna, l'uomo attraente al contrario marcia sempre al ritmo del suo tamburo.